Con l'assessore regionale del Lazio D'Amato e mi conferma che sono guariti dal coronavirus. Quindi questa sera abbiamo tre guariti, è una cosa buona. Abbiamo rispetto a oggi un totale di 400 persone contagiate sulla base dei dati forniti dalle regioni, quindi un incremento rispetto a oggi di 26 persone. Il dato rimane Lombardia 258 complessivi, 71 Veneto, 47 Emilia Romagna, 11 Liguria e poi rimangono 3 rispettivamente Piemonte-Dazio e Sicilia, Toscana 2, 1 Bolzano. Quindi questo è il bilancio e permettetemi di dire che sulla base anche di quelli che sono i risultati dei tamponi che sono stati fatti, come potete vedere anche dal dato statistico, meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo. Oltre sui dati che noi disponiamo, oltre la metà dei positivi non hanno bisogno di cure ospedaliere e così come conferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ma gli affetti dal coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi. Oggi come sapete c'è stato anche la Commissaria della Salute, ha avuto un incontro con il Ministro Speranza e qui voglio ricordare che la Commissaria ha avuto parole di apprezzamento per l'attività che è stata condotta dal nostro Paese per confinare il contagio definendo le misure adottate in Italia veloci e risolute. Come voi sapete noi stiamo operando ormai dal 31 di gennaio con il nostro Comitato Operativo della Protezione Civile e stiamo seguendo insieme con i colleghi delle regioni componente sanità e componente protezione civile per la gestione dell'emergenza. Non abbiamo avuto particolari difficoltà, non ci sono particolari criticità anche nelle aree della cosiddetta zona rossa. Voglio anche ricordare che già da più di 20 giorni noi abbiamo il dato dei nostri volontari che controllano nei porti e negli aeroporti i viaggiatori, siamo a oltre 2 milioni e 800 mila persone e sono convinto che domani arriveremo sotto sopra di poco dei 3 milioni. Nei porti quasi 100 mila persone sono state controllate quindi questo è il dispositivo messo in campo dal sistema di protezione civile. Un'ultima notizia, ho un paio di notazioni riguardo anche alla comunicazione. Innanzitutto bisogna fare attenzione a quelle che sono le fake news e quindi bisogna fare riferimento ai canali ufficiali e canali ufficiali sono quelli anche come questo quindi voglio ringraziare tutti quanti gli operatori della informazione che sono qui con noi ormai da diversi giorni, voi tutti, per questo lavoro che ci permette di dare una informazione quotidiana, continua e costante ai nostri connazionali. Io mi fermerei qui, lascerei spazio alle vostre domande. Solo un paio di domande. Non funziona ma l'abbiamo sentito, Alessandro Arona Radio 24. Allora partiamo dall'ultimo che mi sembra più importante, anche io sapevo questo dato, conosco questo dato, è interessante capire anche quanti sono stati poi i campioni esaminati. Mi pare che siano sostanzialmente simili, non ci sia una grossa differenza ma questo ho chiesto di averlo anche io come dato. Ho sentito il professor Ricciardi poco fa e lui non aveva il dato complessivo quindi vi faremo avere anche questo dato, a me interessa molto anche questo dato qui. Quindi questa è una cosa per quanto riguarda i tamponi e si tratta di una misura che è operativa e che non riguarda soltanto le persone che hanno sintomi ma anche coloro i quali hanno avuto stretti contatti con persone positive. Quindi c'è il massimo livello di attenzione e concentrazione per isolare e individuare quanto prima il virus. Giorgio Cardinaletti, Tg1 Commissario, oggi sulla maggior parte dei siti e degli organi di informazione abbiamo letto di eventuali minori coinvolti. Può fare chiarezza in qualche modo su questo? Sì, su questo ho letto anche io sui siti non disponiamo di informazioni ufficiali. Poi vi pregherei anche voi di fare attenzione perché non so da dove escono queste informazioni e se le informazioni non sono verificate come voi che siete professionisti di informazione sapete, è bene secondo me che non siano prese in considerazione, almeno io non le prendo in considerazione. Quindi quando avremo una informazione su questo, io l'ho chiesta, ve la daremo. Francesca Malaguti, Giornale Radio Rai. In Liguria sono 11 casi, si può parlare di nuovo a Focolaio? Ma da quello che so io, quelli che sono in Liguria sono sostanzialmente tutti quanti concentrati e fanno parte di una committiva, almeno per quello che ne so io, ho parlato pure col Presidente Toti qualche ora fa, quindi non credo che sia assolutamente un nuovo Focolaio. Io ultima domanda e poi ci fermiamo qui. Sui Focolai è possibile che si stia facendo anche un controllo sempre in Lombardia di un possibile Focolaio nel Bergamasco collegato ai turisti in Sicilia? Allora quella è l'attività degli esperti epidemiologi che stanno lavorando, in particolar modo i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi ci auguriamo tutti che possano darci questa conferma quanto prima. Grazie e grazie a tutti.